sono carlo gervasi naturopata iridologo autore del libro anatomia emozionale da anni sono terapista del corpo e del movimento e il mio secondo libro sonno e in uscita dicembre per un editori sonno è l'antitesi al risveglio nelle culture si parla essenzialmente di risveglio cioè il bisogno di risvegliare il corpo il bisogno di svegliare il cervello il bisogno di svegliare la macchina addormentata ma se la macchina è addormentata dobbiamo renderci conto che siamo nel sonno e se siamo nel sonno è il primo stato il primo stadio che va osservato e che va analizzato quindi inizialmente dobbiamo renderci conto che viviamo nel sonno e per poterci risvegliare dobbiamo conoscere essenzialmente e profondamente lo stato in cui soggiacciamo adesso il sogno è energia che emerge dall'inconscio energia che emerge da noi ed è l'energia che noi utilizziamo per sognare per rappresentare delle immagini oniriche la fonte dei sogni ovvero la nostra parte interna che produce queste immagini gestisce l'energia e la mette a disposizione del cervello sotto forma di immagini queste immagini noi le chiamiamo sogni i sogni hanno un potenziale enorme ci permettono di scoprire chi siamo di capire chi siamo ma soprattutto ci permettono di evolvere attraverso la comprensione che noi possiamo avere di loro cioè delle immagini che produciamo dal centro della nostra psiche il sogno è essenzialmente una palestra per l'inconscio ovvero una palestra dove l'io del sogno cioè la persona che viene proiettata all'interno di questa energia per sognare che siamo noi stessi quindi una proiezione di noi l'io del sogno viene proiettato all'interno della fonte dei sogni o meglio viene proiettato dalla fonte dei sogni all'interno di una palestra onirica affinché l'io del sogno si addestri a superare le proprie avversità cioè a risolvere i propri conflitti ho scritto questo libro perché nei sogni c'è un potere enorme c'è il potere del cambiamento il potere della trasformazione nei sogni c'è la possibilità di evolvere di capirci e di conoscerci come esseri umani nel libro troverai i 24 tipi di sogni catalogati uno per uno le mappe per l'accesso al sogno e tutte le domande pratiche che potrai farti per comprendere come funziona il tuo sogno e come trasformare i sogni nella vita pratica e trasformare e cambiare la tua realtà